Signora 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 Comincio con te perché sei attenta Devi lanciare la clava sei pronta? E si fanno iscrivi Vuoi ascoltare un atto? Guarda, mi prendi la bandiera però Tu realizza e intanto me le faccio passare dagli altri Cominci con te Cominci con te Sei pronta? Vai E' quella che vi dà più fiducia al fine Brava signora, però quando c'è la musichetta? Vuoi tenere un secondo braccio? No, tu quella di detrano No, no, su, su, su Grazie Pronta? Sì o no, c'è signora, mi rispondo se dico pronta C'è qualcuno sano di mente qui? Signora è italiana? Sì, 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 bene, allora la cosa mi pronta La cosa mi pronta, vai Ecco così, più libero Dai, ti do l'ultima possibilità Aspetta che lancia Sì, sì, aspetta eh Aspetta che lancia Aspetta Aspetta Stai tranquilla, stai tranquilla, stai tranquilla, stai tranquilla, stai tranquilla. Sì, stai tranquilla. Ah no, scusi, che s'lava fosse. Sì, stai tranquilla. 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 No, signora, non si preoccupi, io non nemmeno fretta, eh. No, non c'è problema. Vai. Sì, stai tranquilla. Qualcuno di voi ha mai visto 5 clave? Sì, stai qua. No, dai, mi piace la reazione, il pubblico c'è. Qualcuno di voi ha mai visto 5 clave? Ma ragazzi, facciamo che non dico niente, dai. Sì, stai pronta. Sì, è pronta. No, dai. No, dai. No, dai. No, dai. No, dai. No, dai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.